Insegue sempre se stessa Perché la mente insegue sempre se stessa e non può intuire l'oltre Commento Perché la mente ha a disposizione solo un gruppo di presupposti fisici da cui la sua natura ordinativa le fa scartare tutte le informazioni che lei non riconosce e che sono proprietà della coscienza Per questo la mente insegue sempre se stessa